Oroscopo del giorno, giovedì 5 maggio 2022 Ariete Amore, oggi avrete la luna in posizione del tutto sfavorevole che trasformerà il giovedì in una giornata piuttosto difficile. Sarete giù con il morale e nei rapporti potrebbero nascere diverse discussioni. Lavoro, potrebbero esserci delle tensioni in ufficio. Sarebbe proprio il caso di mantenere la calma per non avere delle ripercussioni. Toro, amore, finalmente da questa giornata all'inizio mese potrete sperare in un piccolo recupero. Magari potrete provare a parlare con la vostra dolce metà o una persona vicina se avete avuto problemi. Lavoro, sul posto di lavoro potrebbe essere un giorno veramente molto fortunato. Occhi aperti a qualche occasione nuova da poter cogliere al volo. Gemelli, amore, venere potrebbe davvero iniziare ad agire in vostro favore, pronti ad accogliere nuove emozioni, nuove piacevoli sensazioni. Bella giornata sia per le coppie che per i single. Lavoro, la luna non sarà più in una posizione troppo fortunata ma sul lavoro le cose continueranno ad andare abbastanza bene. Cancro, amore, in questo primo giovedì del nuovo mese avrete una bellissima luna in vostro favore. Ottimo umore quindi da poter sfruttare al massimo anche nei propri rapporti personali della sfera privata. Lavoro, luna che potrebbe portare qualche buona notizia per quanto riguarda il lavoro. Non si possono escludere opportunità. Leone, amore, questa potrebbe rivelarsi una giornata interessante soprattutto per chi è da solo. Per i single potrebbe essere arrivato il momento perfetto per fare un nuovo e speciale incontro. Difficilmente mancheranno le emozioni oggi. Lavoro, con il tanto impegno ormai qualcosa sembra muoversi. Chissà che non arrivi una novità o una soddisfazione. Vergine, amore, con venere che di nuovo in una posizione tranquilla questa giornata non può essere poi così male. Dovrete cercare di godervi al massimo i vostri rapporti o una nuova conoscenza se siete soli. Lavoro, ci sarà una certa stanchezza sul posto di lavoro. Dipenderà dagli impegni ma anche dalla posizione delle stelle. Bilancia, amore, attenzione alla relazione con il partner in cui potrebbero esserci diversi problemi di coppia. Perderete fiducia, inizierete ad avere alcuni dubbi. Purtroppo varrà anche per molti single in cerca di incontri. Lavoro, mercurio sarà ancora attivo ma non è detto che arrivino novità troppo grosse per voi. Calma. Colpione, amore, in questo giovedì così come in tutto il periodo più in generale il pianeta dell'amore non sarà troppo favorevole. È difficile che arrivino troppe novità buone per i sentimenti ma non si può escludere nulla. Lavoro, parte porterà davvero una ottima forza e delle bellissime energie da poter sfruttare al massimo in questa nuova giornata. Sagittario, amore, dopo un inizio settimana davvero da dimenticare da oggi finalmente inizieranno ad esserci dei miglioramenti. Vi converrà a cominciare a sfruttare le stelle per avere qualche emozione in più. Lavoro, il recupero si farà sentire e vedere anche sul posto di lavoro. Potrete riuscire ad avere qualche notizia o qualche gratificazione. Capricorno, amore, da questa nuova giornata all'inizio mese avrete la luna in posizione opposta. Questo porterà chiaramente un certo malumore ma non solo. In coppia o in una nuova conoscenza potrebbero esserci problemi. Lavoro, occhio ad un po' di nervosismo. Sarebbe proprio il caso di evitare tensioni in ufficio soprattutto se state affrontando qualcosa di importante. Acquario, amore, un giovedì molto tranquillo anche per oggi non sono comunque previste novità importanti. Sarà un giorno abbastanza sereno per le coppie così come anche per i single. Lavoro, per i vostri impegni di lavoro sarà una giornata con i soliti compiti di routine. Niente di troppo difficoltoso o impossibile da affrontare. Pesci, amore, niente di che sul posto di lavoro. Non sarà una giornata troppo entusiasmante per i sentimenti. Per le nuove coppie o le nuove conoscenze però le belle emozioni difficilmente mancheranno. Lavoro, giove in perfetta congiunzione potrebbe continuare a regalare delle ottime notizie sul posto di lavoro, costanza e impegno. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Seguimi anche su Telegram per le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie a tutti.